In questo tutorial vediamo come realizzare una tenda a filet con un disegno a cuori. Ciao e bentornati a Crochet Romance! Io sono Lisa e in questo tutorial vediamo come realizzare una tendina per il bagno oppure per il soggiorno. Ho fatto un sondaggio nel nostro gruppo Tempo di Crochet su Facebook ed è questo il progetto che è stato il più votato. Quindi vediamo insieme come realizzarlo. Ho preparato uno schema che potete scaricare seguendo il link che vi lascio nel box informazioni oppure nella sezione file del gruppo Tempo di Crochet su Facebook. Vi lascio comunque tutti i link utili nel box informazioni. In questo schema vediamo che ci sono qua il numero di quadretti che va da 1 a 52 e invece da questo lato e da quest'altro lato il numero della riga corrente che lavoriamo. Quindi qua ho preparato il motivo dalla prima alla trentesima riga. Come vedete ci sono dei quadretti vuoti e quadretti pieni rappresentati dalla X. Nella lezione della scuola di uncinetto per mancini abbiamo trattato questa tecnica che si chiama l'uncinetto a file e ho preparato il video anche per la mano destra. Quindi potete trovare tutti i link utili per imparare intanto la tecnica sempre nel box informazioni. Io insieme a voi lavorerò riga per riga comunque dalla prima alla trentesima riga. Dopodiché voi semplicemente se volete fare la tenda più larga dovete ripetere la sequenza dalla prima alla trentesima riga quante volte volete. Quindi noi lavoriamo in questo senso una riga dopo l'altra. Quindi leggiamo di traverso il nostro schema. Invece la tenda alla fine verrà appesa ovviamente con i cuori nel verso giusto ma penso che questo è ovvio. Ora, lo schema qua parte quindi il motivo da dove c'è qua il numero 1 e finisce al 52. Vedete? Ora, per estetica faremo 3 caselle, quindi 3 quadretti vuoti prima di questo numero 1 e 3 quadretti vuoti dopo la 52esima riga. Quindi dobbiamo fare 3 quadretti di bordo da questa parte e 3 quadretti di bordo da quest'altra parte. Partiamo insieme con l'avvio della lavorazione. Prima di tutto faccio insieme a voi il calcolo per il numero di catenelle che dobbiamo avviare. Quindi abbiamo detto che nel motivo ci sono 52 quadretti e in più dobbiamo fare 3 quadretti aggiuntivi per il bordo sinistro e 3 quadretti aggiuntivi per il bordo destro. Quindi in totale avremo 58 quadretti per ogni riga. Ora, 58 per 3, perché ogni quadretto è formato da 3 catenelle di base, fanno 174. Quindi dobbiamo fare 174 catenelle e ricordiamoci sempre più una extra e quindi 175 catenelle che saranno le nostre catenelle di base. In più dovremmo fare 3 catenelle in sostituzione alla prima maglia alta. Quindi avviamo adesso 175 catenelle più 3. Io sto utilizzando un cotone cablè mercerizzato numero 8 e l'uncinetto da 1,25 mm. Inizio ad avviare le mie catenelle di base, quindi faccio l'asola d'avvio e lavoro 175 più 3 catenelle. 1,2,3,4,5 e devo fare 175. Come lavoreremo 3 caselle vuote da un lato e dall'altro, voglio fare anche 3 righe a caselle vuote prima di iniziare il motivo, quindi prima di iniziare la prima riga. Questo perché non voglio che il mio primo cuoricino va proprio a finire nel bordo della mia tendina. Quindi facciamo per prima 3 righe vuote con caselle vuote, poi iniziamo il motivo e lo ripeteremo quante volte che vogliamo e alla fine concluderemo con altre 3 righe vuote di caselle vuote. Inoltre voglio specificare che io essendo mancina lavoro in un verso, quindi avete due opzioni, o seguite il tutorial dove io vi dico in questo video quante caselle che faccio vuote e poi quante piene e quanto vuote, e lo seguite fino alla fine oppure seguite solo lo schema, perché se lavorate con la mano destra, in automatico il lavoro vi verrà specchiato. Quindi se io facciamo esempio da qui a lì devo fare 20 caselle vuote e voi lavorate con la mano destra, se mi seguite, bene, ma se cercate di seguire lo schema non vi troverete 20 caselle vuote, ma magari 30 o 35. Quindi scegliete prima se lavorate con la mano destra, scegliete se seguire questo video, quindi la mia voce, oppure seguire lo schema. Detto questo, per le mancine non ci sono problemi. Ho avviato le mie 175 catenelle e adesso devo fare 3 catenelle aggiuntive in sostituzione della prima maglia alta. Siccome abbiamo detto che le prime righe vanno lavorate a caselle vuote, faccio altre 2 catenelle. 1 e 2 che fanno parte della parte superiore del primo quadretto. E quindi adesso devo lavorare, vediamo, 1, 2, 3, questa è di base, salto 2 e devo lavorare qui la mia prima maglia alta. Quindi nella, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nella nona catenella dall'uncinetto, lavoro una maglia alta. E ho formato così già il primo quadretto. Adesso faccio 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e lavoro un'altra maglia alta nella prossima catenella. E ho fatto così il secondo quadretto. E devo continuare così fino alla fine della riga. Quindi faccio 2 catenelle, salto 2 e nella prossima faccio una maglia alta. Alla fine della riga devo concludere con una maglia alta. Alla fine della riga controllata di avere in totale 58 caselle, quindi quadretti vuoti, e poi continuate a fare la seconda riga. Stiamo parlando sempre del bordino, quindi facciamo 3 catenelle, 2 catenelle, più 2, giriamo il lavoro e lavoriamo una maglia alta nella maglia alta. Poi facciamo 2 catenelle. Questo filo che sto usando tende un po' a dividersi, quindi ogni tanto devo riaprire le catenelle che faccio. Quindi 2 catenelle e entrate nella prossima maglia alta. Poi fate 2 catenelle e lavorate una maglia alta nella maglia alta. E ripetete questo per tutto il giro, quindi lavorate in pratica un altro giro a caselle vuote, e poi alla fine della riga fate una terza riga di caselle vuote. Arrivato a quel punto vediamo insieme come continuare seguendo il motivo a cuori. Una volta terminata la terza riga di bordino, inizio a lavorare il motivo vero e proprio. Quindi partiamo a lavorare questa prima riga e io vado in questo verso. Se siete destrorsi, probabilmente inizierete da qui. Però, come vi ho detto già prima, decidete voi se seguire lo schema oppure la mia voce. Per le mancine non ci sono problemi. Quindi iniziamo da qui. Ricordiamoci che prima dobbiamo fare 3 caselle vuote, perché vogliamo fare il bordino. Quindi facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, voltiamo il lavoro e facciamo altre 2 catenelle. E passa il gattino. Ok. Quindi facciamo una maglia alta nella prima maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nella prossima maglia alta, 2 catenelle, e abbiamo fatto i nostri 3 quadretti vuoti di bordo. Per farla vedere meglio faccio ancora una maglia alta, ok, che fa parte già del quarto quadretto. Vado a vedere nello schema e mi ritrovo nella prima riga a dover fare 21 quadretti vuoti e poi 2 pieni. Quindi questi 3 sono di bordo e adesso facciamo 21 quadretti vuoti e dopodiché 2 pieni. Quindi semplicemente lavorate una maglia alta e 2 catenelle per ogni quadretto vuoto per un totale di 21 più le 3 di bordo. Per completare quindi la prima riga ho dovuto fare altre 29 caselle vuote più 3 di bordo. Adesso iniziamo la seconda riga partendo ovviamente da questo lato. Quindi dobbiamo fare 28 caselle vuote e poi 4 piene e per il resto della riga tutte vuote. Ovviamente non ci dimentichiamo all'inizio di fare 3 caselle vuote aggiuntive. Quindi 3 caselle per il bordo e poi 28 vuote 4 piene e fino alla fine della riga tutte vuote. come vedete queste sono le 3 caselle vuote di bordo. Quindi a partire da qui inizio a contare 28 caselle vuote. 1 2 3 4 e così via fino a 28. Arrivati a questo punto devo fare le caselle piene. Quindi ho fatto 28 caselle vuote e adesso facciamo 4 piene. Quindi la prima maglia alta è già all'inizio del primo quadretto pieno ne faccio altre 2 attorno alle 2 catenelle e ho fatto il primo quadretto pieno. Poi devo fare il secondo ed entro semplicemente nella prossima maglia alta una nella maglia alta successiva due e nella maglia alta successiva tre quindi ho fatto tre maglia alte e ho fatto il secondo quadretto. Vedete quanto è semplice? Adesso devo fare il terzo quadretto quindi lavoro tre maglie alte lavorando una maglia alta per ognuna delle tre seguente maglie alte ho fatto il terzo quadretto pieno e faccio anche il quarto ed ultimo quadretto pieno per questa riga quindi una maglia alta nella maglia alta e due maglie alte attorno alle 2 catenelle e ora per il resto della riga devo fare caselle vuote più anche per il bordino tre caselle vuote quindi vi faccio vedere la prima faccio una maglia alta nella maglia alta ecco e due catenelle e poi lavoro così una maglia alta due catenelle e chiudo con una maglia alta nell'ultimo punto della riga e così completerò la seconda riga ho concluso la seconda riga del motivo con 20 caselle vuote più 3 di bordo adesso faccio 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta più due per formare il primo quadretto vuoto quindi facciamo i nostri 3 quadretti vuoti di bordo come per ogni riga e dopo di che vediamo nello schema cosa dobbiamo fare per la terza riga ecco quindi prendiamo lo schema e adesso dobbiamo ripartire da qui perché lavoriamo a righe di andata e di ritorno quindi terza riga vedo qua eccolo qua 19 caselle vuote e poi 5 piene e per il resto della riga di nuovo tutte caselle vuote più 3 di bordo vuote quindi 19 vuote 5 piene e il resto della riga vuoto concludo questa riga con una maglia alta nella terza catenella della riga precedente e ho contato sono 28 caselle vuote più 3 di bordo adesso adesso possiamo continuare a fare la quarta riga e quindi devo fare 29 caselle vuote 5 caselle piene e il resto della riga caselle vuote quindi 29 vuote 5 piene 29 e il resto vuoto però non ci dimentichiamo mai di fare prima le 3 caselle vuote di bordo quindi faccio 3 più 2 catenelle giro il lavoro e faccio 3 caselle vuote prima di iniziare a contare le caselle del motivo ecco adesso posso iniziare a contare le caselle del motivo voglio farvi vedere ancora una volta insieme come si fa quindi ho fatto 29 caselle vuote e adesso devo saltare le prossime 2 maglie alte e nella successiva faccio una maglia alta e inizio a lavorare i miei quadretti quindi una maglia alta in ogni maglia alta intanto e 3 maglie alte compongono un quadretto quindi ho fatto uno questo filo che si divide sempre scusate che non voglio lavorarlo bene allora ripartiamo una due tre e ho fatto il primo quadretto pieno una due tre e ho fatto il secondo quadretto pieno una due tre terzo quadretto pieno una due tre quarto quadretto pieno e adesso devo fare ancora il quinto quindi una maglia alta nella maglia alta e due maglie alte attorno alle due catenelle e così ho completato le maglie alte i quadretti pieni per questa riga già si intravede un pochino la forma del cuore adesso dobbiamo lavorare a quadretti vuoti quindi una maglia alta e due catenelle fino alla fine della riga per le prossime righe vi dirò il numero esatto di quadretti vuoti e quadretti pieni da fare ma non vi farò più vedere i passaggi perché altrimenti questo video diventa troppo lungo sicuramente avete già capito come realizzare la trama a filet se avete comunque domande vi invito a pormeli nella sezione dei commenti sotto a questo video sono andata avanti a concludere la quarta riga con 18 caselle vuote più 3 di bordo per la quinta riga dovete fare 3 caselle vuote di bordo e dopo di che altre 19 caselle vuote 5 caselle piene 5 vuote 3 piene e 20 vuote e poi 3 di bordo sempre vuote per la sesta riga fate 3 caselle vuote di bordo poi poi 19 caselle vuote 1 piena 3 vuote 2 piene 3 vuote 4 piene e 20 vuote più 3 vuote di bordo per la settima per la settima fate di nuovo 3 caselle vuote per il bordo 21 vuote del motivo 2 piene 3 vuote 1 pieno 6 vuote 1 pieno 18 vuote e 3 vuote e 3 vuote per il bordo di nuovo e fin qui sono i punti in sequenza per le righe da 5 a 7 come vedete sono già arrivata a questo punto e si vede già il primo piccolo cuoricino pieno e di qua già si intravede il grande cuore vuoto continuo a lavorare un paio di righe e poi vi aggiorno sul numero esatto di caselle vuote e piene per ogni riga comunque vi ripeto potete anche seguire lo schema vedete quello che è più facile per voi semplicemente dovete sapere che se avete iniziato da questo lato come ho fatto io fate la prima riga in questo verso e la seconda in questo verso e fate righe di andata e di ritorno quindi noi adesso siamo arrivati alla settima riga in questo verso e devo fare la ottava riga se volete farlo da voi semplicemente mettetevi a contare fate prima tre caselle vuote e poi vedete una, due, tre quattro, cinque, sei sette, otto, nove dieci, undici, dodici tredici, quattordici quindici, sedici, diciassette diciotto caselle vuote poi vedete una piena contate le caselle e così via se non volete seguire la mia voce ma io comunque vi farò a voce fino alla trentesima riga il pezzettino che vedete qua è arrivato fino alla diciannovesima riga e vedete come si vede già il disegno bellissimo dei cuori ma vediamo insieme i punti che dovete lavorare quindi voi vi siete fermati all'ottava riga che è da fare quindi fate per l'ottava riga scusate tre caselle di bordo vuote poi diciotto vuote una piena sette vuote una piena venticinque vuote e poi di nuovo tre di bordo per la riga numero nove fate tre caselle vuote di bordo poi undici caselle vuote tre piene dieci vuote una piena otto vuote una piena tredici vuote tre piene e due due vuote e poi tre di bordo sempre vuote per chiudere la riga per la riga numero dieci tre caselle vuote di bordo poi uno vuoto sei piene dodici vuote uno pieno otto vuote uno pieno otto vuote sei pieni e nove vuote e dopo tre vuote di bordo per la riga numero undici fate tre caselle vuote per il bordo otto vuote otto piene sei vuote una piena otto vuote una piena dodici vuote e otto pieni e dopo di che tre caselle vuote per finire la riga la riga numero dodici dovete fare tre caselle vuote di bordo poi nove caselle piene dodici caselle vuote una piena otto vuote una piena cinque vuote nove piene e sette vuote e poi ancora tre vuote per concludere la dodicesima riga la riga numero numero tredici tre vuote di bordo sei vuote dieci piene sei vuote una piena otto vuote una piena dieci vuote dieci piene e poi tre di bordo vuote la riga numero quattordici tre vuote di bordo poi un'altra vuota dieci piene otto vuote no una piena otto vuote una piena otto vuote dieci piene cinque vuote e poi ancora tre vuote di bordo siamo arrivati alla riga numero quindici facciamo tre caselle vuote di bordo quattro vuote dieci piene dieci vuote una piena otto vuote una piena sei vuote dieci piene e due vuote e poi ancora tre vuote di bordo per la riga numero sedici facciamo due scusate prima tre caselle vuote di bordo e dopo di che per il motivo due caselle vuote undici piene cinque vuote una piena sette vuote una piena dodici vuote dieci piene e tre vuote e altre tre vuote di bordo la riga numero diciassette fate tre caselle vuote di bordo e dopo di che quattro caselle vuote per il motivo poi dieci caselle piene dodici caselle vuote una piena sei vuote una piena sei vuote dieci piene due vuote e altre tre vuote per il bordo per la riga numero diciotto fate tre caselle vuote di bordo poi una vuota dieci piene otto vuote una piena tre vuote due piene dodici vuote dieci piene cinque vuote e alla fine ancora la riga numero dicianove scusate alla fine della diciottesima ovviamente ricordatevi di fare tre caselle vuote ora per la riga numero dicianove fate tre caselle vuote di bordo altre sei vuote per il motivo dieci piene tredici vuote tre piene dieci vuote e dieci piene e poi tre vuote per il bordo fin qui e dove sono arrivata a questo punto continuo a fare le ultime dieci undici righe anzi e poi vi mostro di nuovo la sequenza delle caselle piene e vuote comunque trovate anche nel box informazioni riga per riga questo riassunto di caselle piene e vuote come come vedete ho già completato le prime trenta righe quindi eravamo rimasti alla diciannovesima riga adesso vi dico i punti dalla riga numero venti alla trenta quindi per la riga numero venti lavorate tre caselle vuote di bordo nove punti pieni cioè nove caselle piene poi ventisette vuote nove piene sette vuote e altre tre vuote per il bordo per la riga numero ventuno fate tre caselle vuote di bordo poi tre vuote due piene tre vuote otto piene ventotto vuote otto piene e tre caselle vuote di bordo per la riga numero ventidue tre caselle vuote di bordo più una vuota del motivo poi sei piene trenta vuote sei piene tre vuote una piena due vuote una piena due vuote e altre tre vuote di bordo la riga numero ventitré fate tre caselle vuote di bordo una vuota una piena tre vuote una piena cinque vuote tre piene trentatré vuote tre piene e due vuote e poi tre caselle vuote per concludere la riga la riga numero ventiquattro fate tre caselle vuote di bordo e poi quarantasette vuote una piena tre vuote una piena e tre vuote di bordo silvetotro riga numero venticinque tre vuote di bordo una vuota una piena tre vuote una piena qupolarantasei vuote e tre vuote di bordo la riga numero ventisei 3 vuote di bordo, 46 vuote, 1 piena, 2 vuote, 1 piena, 2 vuote e 3 vuote di bordo. La riga numero 27, 3 caselle vuote di bordo, 3 vuote, 2 piene, 47 vuote e 3 vuote di bordo. La riga numero 28, 29 e riga numero 30 vengono lavorati tutti a caselle vuote, quindi sia per il bordo che per il motivo. E arrivate a questo pezzettino, io l'ho misurato adesso grossolanamente, sono circa 19 cm, ovviamente una volta completato il lavoro andrà steso in forma e quindi si allargerà di misura. Vedete? E così il cuore risalterà ancora di più. Per fare la tendina, se non avete le finestre strettissime, sicuramente dovete fare un'altra volta queste 30 righe, come farò anch'io adesso. Alla fine di queste 30 righe aggiuntive vi farò vedere come fare per la parte superiore il bordino con i spazi vuoti per attaccare poi la tenda all'asta o al bastone della tenda, come lo chiamate voi. Quindi ci vediamo per il bordo dopo che ho raddoppiato la misura della mia tenda. Ed eccomi che ho completato la larghezza desiderata della mia piccola tendina. Come vedete ho replicato due volte le 30 righe. E adesso andiamo a lavorare il bordino per poter appendere poi la nostra tenda all'asta. Quindi dobbiamo lavorare su questo lato e formare delle righe a maglie basse e poi creare le asole per avere i buchini sulla quale infilare la nostra tenda nell'asta. Vediamo insieme come fare. Riprendiamo quindi il nostro filo e facciamo un'asola come se dovessimo iniziare un nuovo lavoro. Poi cerchiamo il primo quadretto vuoto e inseriamo l'uncinetto. Poi prendiamo la nostra asola, teniamo fermo la codina, passiamo attraverso il quadretto e chiudiamo con una maglia bassissima. E così abbiamo agganciato il nostro nuovo filo. Ora facciamo una catenella e lavoriamo tre maglie basse all'interno del nostro primo quadretto. Poi entriamo nel secondo quadretto e lavoriamo tre maglie basse attorno al quadretto. Entriamo nel prossimo quadretto e facciamo tre maglie basse. e ripetiamo questo fino alla fine della riga quindi dobbiamo fare tre maglie basse all'interno di ogni quadretto. Arrivato alla fine della riga facciamo una catenella voltiamo il lavoro e lavoriamo un'altra riga a maglie basse quindi una maglia bassa in ogni maglia bassa e io direi che facciamo dopo questa riga ancora una terza riga a maglie basse quindi alla fine di questa seconda riga voi fate una catenella voltate il lavoro e lavorate un'altra riga a maglie basse. Nella riga successiva dobbiamo fare le asole per poter passare il bastone della tenda ovviamente la grandezza delle asole può variare in base al bastone da tenda che avete voi quindi se il diametro di spessore del vostro bastone da tenda è più spesso dovrete di conseguenza fare dei dei fori più larghi se è più piccolino bastano dei fori piccoli come nel mio caso il bastone avrà circa un centimetro di diametro e quindi io cosa farò? voglio lavorare orientandomi nei quadrati quindi il primo quadrato lo lavorerò pieno quindi faccio tre maglie basse una due e tre e adesso questo è solo per l'inizio della riga adesso farò per i fori tre quadretti vuoti e poi tre quadretti pieni tre vuoti e tre pieni e così fino alla fine della riga e concluderò alla fine con un quadretto pieno quindi adesso devo fare tre quadretti vuoti quindi per ogni quadretto ci sono tre maglie basse quindi farò nove catenelle per saltare queste tre maglie basse per ogni quadretto quindi due tre quattro cinque sei sette otto e nove ok ho fatto nove catenelle e quindi salto nove maglie basse una due tre quattro cinque sei sette otto nove e nella successiva maglia bassa lavoro una maglia bassa e ho creato così il mio primo foro come vedete è abbastanza grande ora come abbiamo detto devo fare tre fori pieni cioè tre quadretti pieni quindi devo fare nove maglie basse in totale una l'ho già fatta faccio la seconda terza terza quarta quinta sesta settima ottava e nona ok e adesso faccio di nuovo nove catenelle per fare il secondo foro uno due tre quattro cinque sei sette otto e nove otto e nove e salto le mie prossime nove maglie basse quindi entro nella decima e faccio una maglia bassa adesso devo fare di nuovo un totale di nove maglie basse poi continuo a ripetere nove catenelle salto nove maglie basse e poi lavoro nove maglie basse ripeto questo fino alla fine della riga alla fine vediamo come come uscirà fuori il punto comunque concluderò con un foro nei ultimi tre quadretti e chiudere qua con tre maglie basse sono stata fortunata perché i punti si sono conclusi perfettamente con le nove catenelle saltando nove maglie basse mi rimanevano solo tre maglie basse libere come avevo voluto concludere la mia riga se nel vostro caso non si dovesse chiudere perfettamente dovete giocare un po con i punti quindi magari se avete fatto sempre nove maglie basse magari all'ultimo ne fate sette maglie basse in modo da poter chiudere con le vostre tre maglie basse alla fine della riga questo è solo un esempio andando così a occhio senza aver calcolato il numero di maglie esatte necessarie è probabile che vi ritrovate con questo problemino alla fine della riga comunque io sono stata fortunata adesso andiamo a vedere come fare la prossima riga quindi faccio una catenella per voltare e lavoro tre maglie basse una maglia bassa in ognuna delle prossime tre maglie basse ok arrivato all'archetto faccio tre maglie basse e poi voglio fare un piccolo decoro quindi faccio una maglia alta tre catenelle una maglia alta e tre maglie basse una due e tre e adesso lavoro una maglia bassa in ogni maglia bassa quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto e nove e adesso ripeto la sequenza che ho lavorato qua all'interno dell'archetto anche nel prossimo archetto quindi faccio tre maglie basse una due e tre poi faccio una maglia alta tre catenelle un'altra maglia alta e tre maglie basse una due e tre e si crea un po' questo mini decoro per ogni archetto ora continuate a lavorare così maglie basse nelle maglie basse e negli archetti tre maglie basse una maglia alta tre catenelle una maglia alta e tre maglie basse fino alla fine della riga ed ecco come si presenta la nostra tenda una volta terminata e stesa per la stesura della tenda ho fatto un video a parte che vi lascio qui in alto sul quale vedete come stendere e asciugare la vostra tenda e metterla in forma inoltre vi invito come sempre se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per essere sempre aggiornati sui ultimi video che usciranno vi ringrazio per aver seguito questo tutorial e aspetto i vostri commenti sotto a questo post per le vostre opinioni e per i vostri anche i vostri desideri per i prossimi progetti grazie vi saluto alla prossima